Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pierre? Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. È una squadra che si affida al pressing asfissiante, vuole indurre all'errore gli avversari e anche oggi potrebbe funzionare, Lele? Sì Pierre, il pressing se portato con i tempi giusti può essere un'arma bicidiale, ti impedisci di ragionare, spesso forzi la giocata, credo proprio che potrebbe essere una delle chiavi di questo match. Ecco l'undici iniziale con cui scendono in campo gli ospiti. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto, attenzione soprattutto alla posizione di quest'anno di centrocampo che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo a partiti in corso. Tutto pronto?